Ecco la nostra nuova ricetta culinaria Le tagliatelle fatte in casa Stiamo preparando gli ingredienti Un chilo di farina, 5 uova Poi cosa ci serve? Un pizzico di sale Un pizzico di sale Spiega, spiega quello che serve Uova fresche delle nostre galline Rompiamo le uova nella farina Aggiungiamo la 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 farina Sunt il frattempo Adesso lavoriamo le uova con la farina, prima stemperiamo bene le uova con la farina facendo diventare un impasto omogeneo. Piano piano aggiungiamo la farina alle uova lavorando Logicamente per mangiare una buona tagliatella fatta in casa occorre anche un buon lavour sempre fatto in casa alla bolognese col macinato Piano piano aggiungiamo la farina Aggiungendo un po' d'acqua all'impasto viene un impasto un po' più leggero del solito Questa è anche un po' più leggero. La farina è tutta l'acqua all'impasto Cosa diare! guardiamo come sta venendo l'impasto un impasto molto morbido è borrato bene adesso ci puliamo le mani così lavoriamo con più facilità e poi ci puliamo Ecco che si sta lavorando l'impasto che sta diventando omogeneo, siamo quasi al termine di questo video della preparazione dell'impasto. Nel prossimo video vedremo come si tira la pasta e come si fanno le tagliatelle con la macchinetta. Ecco, fai vedere come sta venendo l'impasto, ecco guardate l'impasto com'è bello morbido. Morbido, morbidissimo, è ancora lavorato.